Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e nella lezione di oggi andremo a parlare del riferimento cartesiano. Quindi, nella lezione di oggi andremo a riprendere un argomento che avete già affrontato nel primo anno del corso di matematica, quindi rappresenterà essenzialmente un ripasso che poi andremo ad approfondire nelle successive lezioni di questa unità sul piano cartesiano. Il scopo della lezione di oggi sarà vedere insieme e elencare le componenti di un riferimento cartesiano, poi vedremo come rappresentare un punto in un riferimento cartesiano date le sue coordinate, e infine prendere il procedimento inverso, ovvero in cui ho un punto rappresentato sul piano cartesiano e vedere di capire quali sono le sue coordinate. Ma procediamo con ordine, andando a rispondere a una domanda abbastanza semplice, che cosa intendiamo quando parliamo di riferimento cartesiano? Riferimento cartesiano non si tratta di prendere un qualsiasi piano, una superficie di piano, e suddividerla in una griglia, in una maniera molto simile a quello che magari facciamo quando andiamo a vedere la geografia, il reticolato geografico, con i meridiani e i paralleli, che poi ci permette di individuare univocamente la posizione di un punto sulla superficie terrestre, dandone la latitudine e la longitudine. Un sistema molto simile è quello che si fa nel piano, appunto con questa griglia di linee orizzontali e verticali. Pertanto nel riferimento cartesiano, per essere più precisi, nel sistema di riferimento cartesiano, per identificare la posizione di un punto qualsiasi mi basterà una coppia di numeri. Quindi come si faceva per latitudine e longitudine, così possiamo fare nel piano cartesiano, identifichiamo la posizione di un punto attraverso solo due numeri. Il primo che mi darà la sua posizione orizzontale e l'altro che mi darà la sua posizione verticale. Ed ecco qui disegnato un esempio di riferimento cartesiano. Il riferimento cartesiano parte dal disegnare due assi, che sono due rette, una retta orizzontale e una retta verticale. Una piccola notazione riguarda come disegniamo queste rette. Contrariamente a quanto si fa nei paesi anglosassoni, in cui si indicano con due frecce entrambe le direzioni di questa retta, per intendere che prosegue sia a destra che a sinistra, nel caso del riferimento cartesiano, noi preferiamo mettere una freccia nella direzione della crescita positiva dei numeri e dei puntini o un tratteggio per indicare che comunque questa retta, appunto, prosegue anche in questa direzione. Lo stesso vale per l'altra retta, l'asse verticale. Di nuovo, la freccia indica il verso di crescita positivo dei numeri e il tratteggio indica l'altra estensione di questa retta. Ecco, queste due rette, appunto, vengono chiamate assi cartesiani. In particolare, l'asse orizzontale viene chiamato asse delle ascisse, o più semplicemente asse delle x, ma è importante che voi conosciate entrambi i termini. L'asse verticale si chiama asse delle ordinate, meglio noto come asse y. Quindi, di volta in volta, potremmo parlare di ascisse ordinate, oppure di x e y. Il punto in cui i due assi si incontrano viene chiamato origine, origine di entrambi gli assi, origine del nostro piano cartesiano, e normalmente lo indicheremo, appunto, con la lettera O. E cominciamo subito con un esempio semplice, semplice. Voglio rappresentare un punto sul piano cartesiano. In questo esempio ci limiteremo a considerare solo la parte in cui sia i valori delle ascisse, cioè delle x, sia i valori delle ordinate, cioè delle y, sono positivi. Quindi consideriamo questo solo quadrante, poi andiamo a vedere poi gli altri tre quadranti. e voglio rappresentare il punto A di coordinate 3 e 2. Questa è come si legge questa scrittura, no? Punto A di coordinate 3 e 2. Questa coppia di numeri, notate che è separata dal punto e virgola, non dalla virgola, perché c'è il rischio che venga confuso con la virgola dei decimali, rappresentano, appunto, le coordinate. Il primo numero rappresenta la coordinata orizzontale, ovvero la x, ovvero la scissa del punto A. Il secondo numero rappresenta la coordinata verticale, ovvero la y, ovvero l'ordinata del punto A. Con questi due punti ho individuato univocamente dove si trova il punto A. Le coordinate 3 e 2, ovvero, identifico un unico punto sul piano cartesiano, non c'è ambiguità, non può essere un altro punto. Come si fa? Semplicemente io comincio muovendomi lungo l'asse orizzontale, dal momento che ho questo numero positivo, mi muovo dall'origine verso destra, di tre unità, notare come, per esempio, in questo caso ho scelto come unità due quadretti, cioè ogni due quadretti rappresentano una unità, no? Quindi mi devo muovere di sei quadretti, ovvero tre unità, e poi mi devo muovere verticalmente di due posizioni, perché questo è quello che mi dice il secondo numero. Il numero 2, il secondo numero è positivo, quindi dall'origine mi devo muovere verticalmente verso l'alto. Il punto di incontro di questi due movimenti è appunto dove si trova il punto A. Un'altra nota riguardo a come poi rappresentiamo il piano cartesiano, è sempre importante ricordarsi che i numeri vanno scritti sempre, magari almeno il numero 1 che ci dà un po' la scala, il numero 5, il numero 10, però se riuscite a metterli tutti è meglio, diciamo, date un'informazione più completa di quello che è il vostro piano cartesiano. Ecco, accennavo prima al discorso dei quadranti. Utilizzare due assi, uno orizzontale e uno verticale, mi divide il piano cartesiano in quattro regioni uguali. Queste regioni noi le chiameremo i quadranti, e la convenzione vuole che si cominci la numerazione, notate come sto usando i numeri romani, cominciando dal quadrante in alto a destra, che quindi verrà chiamato il primo quadrante. E da qui ci si muove in senso anti-orario. Quindi dal primo quadrante mi sposto a sinistra, verso il secondo quadrante, poi in basso verso il terzo quadrante, poi verso destra al quarto quadrante, e poi nuovo al primo. Ora, cosa hanno di particolare i quattro quadranti? Hanno di particolare che i punti in questi quattro quadranti, e scusate, le coordinate dei punti in questi quattro quadranti, saranno caratterizzate ad avere sempre o valore positivo o valore negativo. E ora vediamo quali sono le combinazioni che abbiamo a disposizione. Cominciamo con il primo quadrante. Come abbiamo visto nell'esercizio precedente, un qualsiasi punto che si trovi in questo quadrante sarà caratterizzato dall'avere l'ascissa, ovvero la x, positiva, e anche l'ordinata positiva. Quindi io scriverò che nel primo quadrante, i punti del primo quadrante saranno caratterizzati ad avere entrambe le coordinate positive. Se poi ci spostiamo nel secondo quadrante, vedremo che nel frattempo le y sono diventate negative. Quindi un qualsiasi punto sul secondo quadrante sarà caratterizzato dall'avere l'ascissa, ovvero la x, negativa, ma l'ordinata ancora positiva. Se scendo poi nel terzo quadrante, ecco, vediamo che entrambe le coordinate, sia l'ascissa che l'ordinata, sono negative. Infine, nel quarto quadrante, torniamo ad avere l'ascissa positiva e l'ordinata negativa. Ecco, perché questo discorso? Essenzialmente, quando io ho le coordinate di un punto, già guardando il segno di queste coordinate, posso immediatamente collocarlo in uno dei quattro quadranti. Un'attenzione particolare chiaramente va fatta al caso in cui una delle coordinate è pari a zero. Questo significa, ovviamente, che il punto si troverà su uno dei due assi. In particolare, se, che so, si tratta di un punto che ha la prima coordinata uguale a zero, questo punto si troverà sull'asse delle y. nel caso in cui invece si ha la seconda coordinata, ovvero l'ordinata pari a zero, esso si troverà sull'asse delle x e ovviamente il punto che ha entrambe le coordinate pari a zero non è neanche altre che la nostra origine. Chiudiamo questo video con un breve esercizio. Ora, come vedete, ho di nuovo il mio piano cartesiano con i quattro quadranti e abbiamo quattro punti, punti A, B, C e D collocati nel nostro piano e dobbiamo scoprire quali sono le coordinate. Ecco, questo è un buon momento in cui potete mettere in pausa il video e cercare da voi di capire quali sono le coordinate di questi quattro punti. A questo punto cominciamo con il punto A. Il punto A ha la coordinata orizzontale 5 e quindi sarà di coordinate 5 e quella verticale andiamo a vedere qui è pari a 1 quindi A è di coordinate 5 e 1. Il punto B è un punto particolare perché come vedete si trova sull'asse delle y e come ho detto prima questo significa che intanto la sua coordinata x la sua scissa è pari a zero la coordinata verticale invece è uguale a 3. Scendiamo al punto C. il punto C la coordinata orizzontale la scissa è meno 4 la coordinata verticale è meno 2 e questo non ci stupisce ha entrambe le coordinate negative infatti si trova nel terzo quadrante infine il punto D che si trova nel quarto quadrante ha la scissa positiva in particolare pari a 2 e l'ordinata negativa pari a meno 1 Allora, nel prossimo video andremo a vedere come trovare la distanza tra due punti e per oggi è tutto arrivederci da Mr. Buscherini e per oggi è tutto